La decisione se partecipare alle prossime elezioni di Sulmona, con o senza simboli, è secondaria rispetto al programma che verrà presentato per il rilancio della città. E quanto emerso nel lungo incontro di Forza Italia, svoltosi oggi nello studio legale della coordinatrice provinciale Antonella Di Nino a Pratola Peligna, alla presenza del coordinatore regionale Nazario Pagano. Sia la Di Nino che il consigliere comunale uscente Luigi La Civita hanno commentato positivamente il confronto che è servito a fare chiarezza dopo la proposta non avallata ieri dalla senatrice Paola Pelino di presentare liste civiche al posto dei simboli di partito. Non è da escludere nulla, ha affermato Antonella Di Nino, perché avvieremo un ragionamento a 360 gradi anche in termini di civicità, ma la necessità sarà quella di mettere davanti a tutti gli interessi della città. Sulla stessa lunghezza d'onda Luigi La Civita, quello dei simboli, ha detto, sarà l'ultimo dei problemi perché prima dovremmo concentrarci sugli obiettivi da portare avanti e poi pensare al resto. L'ex capogruppo di Forza Italia al comune di Sulmona sottolinea il clima di serenità che si è vissuto oggi. Il nostro coordinatore regionale Pagano prosegue è venuto ad unire e non a dividere. Ciò dimostra che c'è la volontà di tutti di lavorare insieme per la collettività. Basta con personalismi, divisioni, tatticismi e vendette che hanno ridotto a mal partito la città, costretta all'ennesima crisi. I prossimi passi sono quelli di consultare le altre forze politiche e civiche per costruire una coalizione allargata. Il candidato sindaco affronterà la campagna elettorale con il marchio dei partiti oppure no? Simboli o non simboli, risponde la cività, è il momento di privilegiare i programmi, le cose da fare per Sulmona e ripartire dalla lezione di quanto accaduto in questi ultimi mesi, affidando la città nelle mani di un governo stabile e concreto, non inconcludente come quello appena andato via. Grazie a tutti.